Pedevilla, cucina top nelle aziende, di Gabriele Ancona. Pedevilla offre un servizio di ristorazione premium alle imprese, che fanno del welfare e del wellness un punto d'onore nei confronti dei propri dipendenti. Al centro la tipicità e la varietà della cucina italiana, come spiega il direttore generale Gian Piero Pazzanelli. Abbiamo conquistato la fiducia dei nostri clienti attraverso una offerta di valore improntata sulla qualità. Ci pregiamo di essere un'azienda premium nella ristorazione e la relazione con i nostri clienti ci sta dando ragione. Cresciamo a ritmi sostenuti sia in termini economici che in termini di qualità. Abbiamo degli obiettivi molto sfidanti, basati sulla nostra proposizione di valore, qualità e sostenibilità. Pedevilla serve 40.000 persone al giorno in 15 regioni, da Treviso a Nardò. 1.200 i dipendenti che lavorano su 180 locali tra ristoranti aziendali e quelle di scuole internazionali.